Venerdì 11 maggio si è tenuta all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze la finale di Primi di Toscana, la gara culinaria riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani. Zuppa toscana nel raviolo, risotto al cuore di carciofo di venturina, farrotto al brasato, testaroli lunigianesi su fonduta di vacca pontremolese. Sono solo alcuni dei nomi dei piatti che gli studenti degli alberghieri di tutta la Toscana hanno realizzato sfidandosi a colpi di messo delle padelle. Il 2018 è l'anno del cibo italiano, quindi abbiamo pensato di organizzare questo concorso, è una sperimentazione, ma dal successo che sta avendo, credo che sarà il primo di una serie di eventi di questo tipo. Abbiamo coinvolto tutti i territori, tutte le province, perché gli istituti alberghieri sono delle eccellenze del nostro canale formativo e quindi hanno partecipato con entusiasmo. Una bella occasione per i ragazzi, perché hanno modo di essere valorizzati, ma anche per chi non è solito entrare nelle scuole, insomma, quindi penso ai giurati, insomma, a coloro che oggi parteciperanno a questa giornata conclusiva anche da spettatori, perché hanno modo di vedere la vera scuola. Scopo dell'iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, è stato quello di raccontare il territorio e la sua identità attraverso i primi piatti della tradizione. Protagonisti dei duelli sono stati infatti i piatti realizzati con prodotti locali e a chilometro zero, cucinati dai futuri grandi chef della nostra Regione. Allora, questo piatto è una zuppa con prodotti tipici dell'entroterra versiliese e sono tutti prodotti a chilometro zero. Appunto abbiamo gli erbi di campo della stagione, i fagioli, schiaccioni di Pietrasanta e abbiamo le castagne di pomezzana, le patate di pomezzana, anche il pane di patate di pomezzana e prosciutto di bigoncia tipico di camagliore, si chiama appunto di bigoncia perché viene fatto stagionare dentro a delle bigonce che sono dei secchi di legno. Prepariamo un piatto che si chiama farinata gialla, è un primo toscano di origine pistoiese e una rivisitazione più o meno della ribollita. Pancetta tesa, cavolo nero, poi abbiamo usato la cipolla, abbiamo usato il porro, la farina gialla pramata. Tutti i primi piatti che hanno partecipato al concorso sono stati raccolti in un ricettario tutto da scoprire perché il cibo è anche condivisione, territorio, cultura e creatività. Una fratellanza insieme, i ragazzi si conoscono e con la scusa di fare ognuno un primo piatto della Toscana finalmente tutte queste scuole alberghiere della Toscana vanno a confronto. I ragazzi parlano fra di loro, parlano delle materie prime, parlano della cucina. Grazie per la visione!